della crisi ucraina. Lei pensa che la via delle sanzioni intrapresa dall'Europa sia quella giusta? Ci sono metodi di lotta differenti e bisogna provarli tutti. Io ho usato vari modi e non sempre quelli giusti. Putin non doveva scendere in campo con i carri armati e prendersi la Crimea. Propongo di eleggere dieci saggi che possano convertire Putin con le giuste istanze. Prima saremo solidali in questo e prima riusciremo a convertirlo. Presidente Beowenza, oggi Danzica può ispirare Kiev? Ci sono profonde differenze tra il presente ucraino e il passato polacco. Quando la Germania ci aggredì nessuno ci proteste. Oggi invece il mondo è a fianco di Kiev ed è giusto perché Putin non può agire in modo indiscriminato.